Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6, fari puntati in apertura ancora una volta sui lavori iniziati ieri in consiglio regionale, lavori finalizzati l'eventuale approvazione del bilancio e anche questa mattina non si sono allentate le tensioni e le polemiche che si sono già registrate ieri con il Movimento 5 Stelle sull'Aventino, oggi la seduta per l'approvazione del bilancio di previsione della legge di stabilità e con il consigliere del PD Camillo D'Alessandro che ha denunciato in aula di aver ricevuto minacce e offese a seguito della pubblicazione di un video da parte dei grillini, vediamo. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, stavolta prima dell'inizio della seduta al consiglio regionale il presidente Giovanni Di Pancrazio ha piazzato due vigilantes a presidio dei banchi del governo in attesa della seduta che dovrà approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione per evitare un'eventuale nuova occupazione dei banchi dell'Aggiunta come quella scenata ieri dei consiglieri pentastellati che ha provocato la stizzita reazione del governatore che ha strattonato la consigliera Sara Marcozzi per sfilargli la sedia. Un pericolo oggi insussistente visto che l'M5S diserterà i lavori. Il centrodestra ieri invece depositato un plico da 1700 emendamenti ma come accaduto ieri per il documento di programmazione economica e finanziaria approvato in serata scatterà la legge tagliola che li ridurrà a 5 per ciascun consigliere. Le divergenze restano ma il clima è quello della ricerca di un accordo. Sono numeri di responsabilità perché per la prima volta noi scriviamo il disavanzo come purtroppo va iscritto con la nuova normativa e ci carichiamo di ammortizzarlo regalando un futuro agli abruzzesi non di debiti ma di risanamento e allo stesso tempo abbiamo garantito prevalentemente le spese sui trasporti e sul sociale e per la prima volta con l'Aggiunta perché lo scorso anno fu apportato col Consiglio anche delle risorse su agricoltura e cultura. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono quelli che vogliamo che la maggioranza prendono in esame e magari in alcuni casi anche accettare. Su questo c'è la nostra massima disponibilità. Comunque un po' di numeri li vogliamo vedere. Ad inizio seduta Di Pangrazio ha ribadito anche la censura adottata dall'ufficio di presidenza nei confronti del gruppo dei 5 Stelle. Camillo D'Alessandro del PD ha reso invece noto di aver ricevuto centinaia di offese sul suo profilo Facebook e anche tramite sms a seguito di un video postato dai grillini in cui il consigliere Dem cerca di non farsi riprendere da un grillino che lo firma con un telefonino. Oltre alla violenza delle offese per i quali chiaramente ci saranno giudici che decideranno se quelle sono offese punibili o meno, si è andato oltre perché si è voluto intaccare la sfera personale ma soprattutto intimidire l'attività di un eletto dal popolo con delle minacce che sono arrivate anche per messaggio, quindi private, di gente che mi vuole fare sapere che da oggi mi devo stare attento. Il consigliere M5S Riccardo Mercante che segue i lavori da spettatore lo invita a denunciare pure e rigetta al mittente le accuse. Se il consigliere ha ricevuto le minacce e esistono le vie legali può procedere per diffamazione quando chi l'ha minacciato. Però la notizia è che noi ieri abbiamo messo in atto una protesta pacifica per dimostrare contro il bilancio assolutamente al buio, quindi privo di qualsiasi... non ci è stato mostrato e c'è stata un'aggressione indiretta all'interno del Consiglio da parte del Presidente verso la nostra collega. C'è stato uno stato di agitazione annunciato questa mattina da parte dei sindacati della funzione pubblica perché si contesta la riduzione di 500 euro del salario accessorio per i dipendenti regionali. Noi oggi come CGL, CISL, UGL e UGL della funzione pubblica proclameremo lo stato di agitazione del personale perché nell'incontro del 18 ultimo scorso il Presidente della Regione si era impegnato con noi a implementare, a trovare le strade per poter implementare il fondo del trattamento accessorio dei dipendenti regionali ma ciò non è avvenuto, tanto è vero che ieri nel confronto che c'è stato con la delegazione trattante di parte pubblica non c'erano ancora le condizioni per poter firmare l'accordo e anche su una possibilità di trovare una mediazione non si è trovata la quadra, quindi riteniamo che senza questo impegno non possiamo accettare che ci sia un ulteriore taglio al salario accessorio che è già avvenuto l'anno scorso e quest'anno si concretizzerebbe ancora in circa 500 euro lordi. Il 2015 per l'economia abruzzese si chiude con un miglioramento rispetto all'anno precedente, resta critica la situazione per le piccole e micro imprese, bene l'export continua la flessione degli occupati, mancano ancora le politiche dedicate alla ripresa dei consumi. Il 2015 è andato certamente meglio rispetto al 2014 che è chiuso in negativo col PIL al 2,7 mentre le previsioni per il 2015 sono un più 0,3%, quasi nulla però ha invertito la tendenza, tuttavia la situazione resta difficile perché il vero tema è l'occupazione che non cresce, abbiamo un fenomeno in Abruzzo, si sta divaricando l'economia tra le grandi e medie aziende che riescono a reggere perché sono in grado di far fronte all'export che cresce del 3,8%, mentre tutte le piccole e piccolissime imprese, anche l'artigianato di cui il tessuto produttivo abruzzese è ampio, ha una vasta presenza, continua a arretrare, a perdere occupati perché è legato più alla domanda interna del nostro Paese che è fatica a riprendersi. La qualità dell'occupazione cambia perché il Geobact è servito a regolarizzare più che aumentare l'occupazione le posizioni precarie e quindi i dati che abbiamo dimostrano come anche qui da noi il Geobact è servito a stabilizzare di più e quindi a dare più certezza, più reddito ai lavoratori che sono una buona cosa ma non sufficiente a rilanciare l'economia. Quali sono le previsioni e soprattutto le richieste e le proposte per l'anno che viene? Il 2016 si presenta come un anno di possibile speranza di una ripresa più forte e duratura, la nostra regione cosa può fare? Deve continuare sulla strada delle riforme e portare in porto quelle che già avviate, quelle dei trasporti, dei consorti industriali sono riforme importanti, è certo però che bisogna evitare di pensare solo al masterplan perché il masterplan copre solo alcuni settori, soprattutto quelli infrastrutturali, materiali e immateriali, serve una politica per l'industria, per le piccole imprese, per il turismo e questo per l'agricoltura, per interno e queste sono le risorse che rimangono a disposizione. Via Libera del Cicas Abruzzo al pagamento della Cassa Integrazione Indiaroga a favore dei lavoratori delle piccole aziende, lo comunica l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo che questa mattina ha presieduto a Pescara la seduta dell'organismo regionale che gestisce le crisi aziendali e di settore. Il Via Libera è arrivato per quelle domande presentate entro il 29 dicembre 2015 con istruttoria positiva. Ci si avvia ad una schiarita sulla vicenda dei lavoratori interinali di attiva, raggiunto un accordo fra lavoratori e amministrazione comunale per un percorso comune da seguire. La prossima riunione ci sarà l'8 di gennaio. Sindaco Alessandrini, da pochi minuti è terminata la riunione tra i lavoratori interinali di attiva e l'amministrazione comunale. Si è intrapreso un percorso condiviso da portare avanti? C'è insomma una schiarita su questa avvertenza? Abbiamo concluso il tavolo di lavoro con un comunicato congiunto che mostra che si vuole fare un percorso insieme. Il primo passaggio di questo percorso è una riunione che dovremo tenere a breve per verificare numeri e procedimenti in ordine alla possibilità ventilata dai lavoratori a proposito di procedere ad una conciliazione del contenzioso in atto verificando nella sostenibilità diciamo così giuridica. Poi c'è anche il tema naturalmente del futuro di attiva. Il futuro a breve prevede la necessità comunque di coprire dei posti che non sono stati assegnati nel concorso perché l'esigenza di pulizia della città permane. Poi c'è il futuro di attiva perché verso una pubblica amministrazione nuova, verso la Costituzione dell'Ager che è un'autorità gestoria dei rifiuti di ambito regionale, ecco che attiva potrebbe avere un ruolo più ampio quindi si cerca di guardare anche al di là dello stretto orizzonte quotidiano. C'è anche una notizia che riguarda il lavoratore che aveva fatto ricorso in tribunale? Il ricorrente viene assunto, naturalmente poi ci sarà un prosieguo dell'azione, cioè ci sarà un grado ulteriore di giudizio e poi bisognerà vedere come va a finire l'appello. La Guardia di Finanza di Giulianova ha sequestrato in un esercizio commerciale del litorale Terramano senza la prevista licenza prefettizia un quintale di fuochi d'artificio, oltre 3.000 pezzi pari a circa 34 kg di polvere attiva. Si tratta di botti che possono essere venduti solo da negozi con licenza di pubblica sicurezza, da soggetti muniti di portodarmi o pirotecnici abilitati ed esclusivamente maggiorenni. Il Comando Provinciale della Finanza raccomanda per l'occasione di seguire tutti gli accorgimenti previsti per l'acquisto e la successiva gestione dei fuochi nella notte di Capodanno, ricordando che non si tratta di giocattoli e di tenerli soprattutto a distanza dei bambini. Poi ancora un incendio è divampato nella scorsa notte in una pasticceria di Trasacco in provincia dell'Aquila, causando danni ingenti alla struttura. Ad accorgersi delle fiamme dietro due frigoriferi sono stati alcuni passanti che hanno avvisato i proprietari ed il 115 all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa 45 minuti per domare le fiamme e far uscire la nube di fumo dall'interno della pasticceria. I proprietari erano già dentro la struttura con gli estintori per spegnere l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo le indagini sull'accaduto. Valori di PM10 oltre la soglia prevista dalla legge nei giorni scorsi all'Aquila. Dall'Arta però giungono rassicurazioni e parlano di situazione nella norma. L'Aquila come le grandi metropoli italiane per inquinamento e qualità dell'aria. È un poco invidiabile primato quello del capoluogo abruzzese certificato dai dati dell'Arta relativi alle rilevazioni effettuate il 22 dicembre scorso. Secondo quanto rilevato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, in quella giornata i limiti di PM10 sono stati leggermente inferiori al limite consentito per legge, ovvero 45 microgrammi per metro cubo, ma nei giorni precedenti, il 18 dicembre per la precisione, gli indicatori di PM10 avevano superato la soglia massima raggiungendo il valore di 55. 24 microgrammi per metro cubo per teramo e 28 per chieti, quindi valori nella media, sempre nella giornata del 22 dicembre, così come a Pescara dove le centraline hanno registrato valori oscillanti tra 28 e 32 e dove solo quella situata in via Sacco ha fatto registrare un picco di PM10 pari a 37. Nella città triatica peraltro l'amministrazione ha predisposto la circolazione intergalterne alla ripresa dell'attività scolastica il prossimo 7 gennaio. Un dato decisamente a sorpresa quello aquilano, con l'amministrazione che ancora non ha preso misure adeguate per rispondere agli alti livelli di inquinamento, che anche secondo attorevoli studi consultabili sulla rete, su siti specializzati, risentirebbe sensibilmente dei lavori di edilizia e presenza di inerti. Ed in una città in cui, come nel resto d'Italia, non si registrano perturbazioni da settimane, la presenza di cantieri legati alla ricostruzione potrebbe aver contribuito in maniera determinante all'impennata dei valori di PM10. Dall'arta sono giunte comunque rassicurazioni e si parla di situazione nella norma, con valori di PM10 che nel capoluogo sono stati superati solo 8 volte in un anno, mentre a Pescara 35. Dati che comunque devono far mantenere alta la tensione su un problema acuito, dai riscaldamenti domestici e dall'inversione termica che crea una cappa nell'atmosfera e non consente la dispersione degli agenti inquinanti. E da giorni invece si parla di emergenza smog a Pescara e oggi alle 16 in municipio è stato fissato un incontro sulla questione PM10 e sui provvedimenti da adottare da parte dell'amministrazione comunale. Al vertice prenderanno parte esecutivo, tecnici, associazioni ambientaliste, sindacati, aziende del trasporto, associazioni di categoria, semplici cittadini e più in generale tutti i soggetti che possono apportare un contributo al dibattito con l'obiettivo di fare il punto della situazione, ascoltare tutte le voci e confrontarsi su possibili soluzioni. Un sit-in di protesta questa mattina a Pescara davanti alla sede della Banca d'Italia, ad organizzarlo gli esponenti di Fratelli d'Italia che oltre a chiedere il risarcimento dei correntisti truffati chiede regole più ferree per chi vende prodotti a rischio ai risparmiatori. Davanti alla sede di Banca d'Italia per manifestare contro chi non ha tutelato su quei risparmiatori che oggi si trovano ad aver perso i risparmi di una vita. Sì, parliamo di lavoratori che hanno lavorato per una vita, che alla fine dei conti hanno visto perdere tutto ciò che era stato risparmiato anche per i propri figli, truffati dalle banche, invece di venire tutelati dalle banche sono stati letteralmente depredati. Siamo qui davanti alla Banca d'Italia perché la Banca d'Italia non ha controllato le banche, operatore delle banche e quello che è successo è stato agli occhi di tutti. Ora noi diciamo apertamente che quando praticamente i cittadini vanno in banca devono essere garantiti almeno, come ho scritto io nel nostro cartello, almeno sino a 100 mila Euro. Ora quando lei va in banca le persone, gli impiegati non lo dicono questo discorso qua e sono molto ambigui. Allora noi diciamo voi dovete fare sì il vostro lavoro, dovete vendere denaro come sempre, però dovete garantire alla gente e dire la verità dei fatti e non prendere in giro la gente, è tutto qua. E quindi noi siamo qui oggi per protestare contro questo discorso. Sarà uno dei nodi da affrontare nel complesso della riorganizzazione della sanità in Abruzzo, quello delle liste d'attesa. In provincia di Teramo i dati dicono che se la sanità è la sinergia tra pubblico e privato funziona, è possibile ridurre considerevolmente l'attesa per le prestazioni diagnostiche. Tempi lunghi, a volte lunghissimi per l'erogazione di prestazioni sanitarie con la salute del cittadino che rischia di essere compromessa da liste di attesa improponibili. In Abruzzo però c'è un caso, quello della Asle di Teramo, che si è mostrato in controtendenza in concomitanza con la scelta provvisoria di alcuni mesi fa di far erogare le suddette prestazioni anche a strutture private. I risultati sono stati eccellenti. Nell'arco dei due mesi di prova in cui il servizio sanitario è stato, per così dire, ci si è appoggiati a delle strutture private esterne, addirittura queste liste di attesa sono per alcune prestazioni dimezzate, per altre invece proprio se è giunti a zero. Ricordiamo che il limite massimo è di 60 giorni e quindi questo senz'altro potrebbe essere un'ottima opportunità per le Asle di prestare comunque il servizio, visto che comunque il servizio sanitario è pagato dagli utenti e nello stesso tempo è la stessa regione che quindi non vede, per così dire, scappare gli utenti in altre regioni. Risultati che l'azienda Teramana potrebbe confermare perseverando con questa mossa strategica che andrebbe incontro alla salute dei cittadini con prestazioni erogate in tempi brevi, conseguente forte contenimento della mobilità passiva ed anche un sostanzioso sollievo per il bilancio di quelle Asle che appunto scegliessero questa via. Se una prestazione costa 135 euro per esempio per un esame mammario, la regione eroga 135 euro all'Asle. Questo servizio, se affidato a strutture private esterne, costa addirittura di meno perché costa all'incirca 100 euro, il che significa che la regione comunque eroga alla Asle di appartenenza 135 euro, però costando 100 euro la prestazione, alla Asle rimangono i 35 euro. Ci sarà sicuramente un bilancio positivo, soldi che chiaramente potranno essere rimessi all'interno della stessa struttura per migliorare il servizio sanitario. Il bilancio 2015 positivo per il comune di Giulianova e per il primo cittadino Francesco Mastromauro. Il sindaco ha rimarcato come la sua amministrazione sia riuscita a diminuire di 300 mila euro la tassazione locale. Come si chiude il 2015 per l'amministrazione comunale di Giulianova? Il bilancio 2015 è un bilancio molto positivo, molto positivo al di là delle polemiche strumentali che qualcuno vuole sempre avanzare senza analizzare in maniera oggettiva un anno solare che vede gli enti di prossimità in grande difficoltà. A Giulianova noi abbiamo un bilancio 2015 approvato rispettando il patto di stabilità per l'ennesima volta, un bilancio che non ha introdotto nuove tasse locali ma che anzi ha diminuito la tassazione locale, più di 300 mila euro di diminuzione. In questo anno solare abbiamo pagato un debito che proveniva da 35 anni addietro di 4 milioni e 200 mila euro. A Giulianova quest'anno ha iniziato a lavorare il gestore unico dei rifiuti. C'è, come hanno potuto osservare i cittadini, sempre una migliore percezione della pulizia. Abbiamo superato il 70% di raccolta differenziata. Nonostante la crisi abbiamo fatto opere pubbliche che la città aspettava da tempo, abbiamo inaugurato il tratto del lungomare sul lungomare centrale con il bike to cost. È stata un'opera importante. Tante cose le abbiamo messe in itinere. Iniziato i lavori del campo di calcio Castrum, anche questo che attendeva da almeno 40 anni, con un impegno di oltre un milione di euro. Porterò all'approvazione la realizzazione di un palazzetto dello sport interamente a carico dei privati. A Giulianova abbiamo iniziato e continuato una stagione della democrazia partecipata. Siamo nelle condizioni di poter auspicare per il 2016 interventi importanti. Perché con la vendita della Giulia Servizi, che è stata decisa dal legislatore nazionale, noi contiamo di reperire risorse ingenti, diversi milioni di euro, che andremo a investire sulla città per completarla, ad esempio con il centro del Lido che ha bisogno di un grande restyling. Dopo 16 anni di presidenza, Massimo Parenti, storico fondatore dell'Agbe di Pescara, l'associazione impegnata nel sostegno delle famiglie e dei piccoli pazienti affetti da leucemia, lascia l'incarico e passa il testimone al suo vice, Achille Di Paolo Emilio. Dal 1 gennaio guiderà l'associazione, mentre Parenti ricoprirà il ruolo di presidente onorario, dedicandosi al reperimento dei fondi. È un passaggio di consegne voluto, dovuto, che magari se fosse avvenuto 5-6 anni fa sarebbe stato ancora meglio, però per gli impegni dell'associazione occorre che una persona sappia che ci si deve dedicare. E quindi finalmente abbiamo trovato un genitore disponibile ad essere presenti in associazione sia la mattina che il pomeriggio, per cui noi andremo avanti con i nostri impegni. Io non è che esco dall'Agbe, rimango nell'ambito dell'Agbe preoccupandomi di quella che è la raccolta fondi, che sia ad oggi è quella che ci permette di andare avanti, di portare quel sorriso ai bambini ricoverati, con le famiglie ospitate in casa alloggio o con il trasporto casa-ospedale-casa e con tanti altri servizi che offriamo sempre gratuitamente ai nostri amici meno fortunati. Io in pratica sono stato in questi 16 anni sempre a fianco di Massimo. L'associazione l'abbiamo fondata insieme, che è chiaro che lui è stato il trascinatore, quello che ci ha dato la forza, è lui che è stato sempre in prima linea, però è sempre stato supportato da me e dagli altri consiglieri. Quindi non cambierà niente, se non che ci sarà un impegno da parte mia, un forte impegno, perché noi abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e continueremo a crederci. Sicuramente abbiamo altri progetti nel cassetto e cercheremo di portarli avanti. Sono abbastanza tranquillo perché so che quello che facciamo è che cosa andiamo incontro. So quello che mi aspetta, so che cosa faccio e poi strappare un sorriso ai bambini è la mia mission e quindi sicuramente la mia famiglia sarà felice di questo. Ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di Serie B di Pescara, che si gode un bel 2015, che sta chiudendo i battenti e pensa al mercato. Con un briciolo di buona sorte il Pescara avrebbe potuto centrare la promozione in Serie A, ma appunto l'anno che si sta chiudendo resta molto molto positivo per i biancazzurri che ora cercano di migliorare una squadra che già si è molto ben comportata nel girone d'andata che è stato chiuso con 37 punti al quarto posto in servizio. È stato un 2015 molto positivo per il Pescara, un anno nel quale è mancata solo la ciliegina sulla torta di una promozione sfumata per un soffio lo scorso giugno quando la Fortuna ha deciso di sorridere al Bologna e voltare le spalle ai biancazzurri. Nonostante le partenze eccellenti nel corso dell'estate, il nuovo corso instaurato da Massimo Oddo ha continuato a mettere risultati più che lusinghieri, anche per via di una rosa allestita con un'età media bassa ma ricca di qualità e talento. Così il Pescara chiude l'anno solare avendo fatto più punti di tutti, 70, e più gol di tutti, 63. E al giro di Boa è la quarta forza del campionato con 37 punti all'attivo. Meglio hanno fatto solo Cagliari, Crotone e Novara. Alle spalle squadre all'inizio quotatissime come Bari, Cesena e la delusione spezia. E la sensazione è quella che se Campagnaro avesse giocato di più e non fosse stato limitato dagli infortuni, il bottino poteva essere ancora più pingue. In fondo i numeri sono eloquenti, con l'argentino a guidare la difesa, i biancazzuri hanno sempre vinto e incassato un solo gol a Lanciano. Anche il presidente Sebastiani può gongolare per le esplosioni di Caprari e del capocannoniere Lapadula, giocatori che sul mercato valgono già tanto, sul campo viaggiano a suon di gol. A proposito di mercato, il primo nome in entrata in attesa dell'apertura ufficiale della finestra invernale, fissata per il 4 gennaio, è quello del centrocampista marocchino Ismail Ekmaidat, che la Roma acquisterà dal Brescia per poi girarlo in prestito al Pescara. Giocatore di grande qualità e che potrà inserirsi nel gruppo anche grazie all'ex compagno di squadra Ben Ali, che ritroverà in riva all'Adriatico. Il tecnico Oddo poi vorrebbe alla sua corte Antonio Piccolo. Sul giocatore della Virtus Lanciano c'è una concorrenza spietata di Novara e soprattutto Spezia, che sul piatto mettono un ingaggio allettante per il giocatore. Il presidente Sebastiani proverà a far valere i buoni uffici con il DS Frentano Leone e a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche come il difensore Pesoli e l'attaccante Forte, ma non sarà facile. Interessano poi il fantasista Verde, che potrebbe arrivare anche egli in prestito dalla Roma, e l'esperto difensore Domizzi dall'Udinese. I vertici biancazzurri tengono poi d'occhio gli sviluppi della vicenda Mandragora. Il Genoa, proprietario del cartellino, e la Juventus, hanno già trovato l'intesa per il passaggio in bianconero del gioiello di Scampia, il quale comunque con grande probabilità resterà in prestito a Pescara fino a fine stagione. Tuttavia non si può escludere a priori che il giocatore indossi sin da subito la casacca bianconera. Oddo però conta di averlo ancora con sé, un giocatore che nel girone è andata confermato anche in biancazzurro di essere un vero e proprio predestinato. Situazione del tutto opposta invece a Lanciano, dove si parla da giorni anche di una eventuale cessione societaria, ma soprattutto tra possibili nuove penalizzazioni e partenze eccellenti. La Virtus chiude con tante preoccupazioni, un difficile 2015, nuove ansie per i tifosi frentani dopo la boccata d'ossigeno col Livorno. Piccolo, Marilungo, Pucino e Crecco hanno la valigia pronta, rischia di andare via anche il capitano Mammarella. Un paio di giorni per godersi la tonificante vittoria sul Livorno, poi sui tifosi della Virtus Lanciano sono ripiombate le preoccupazioni che alleggiavano prima dell'ultimo match dell'anno. Interrogative ancora più inquietanti alla luce dei rumors piuttosto insistenti che parlano dell'arrivo di una nuova penalizzazione per problemi amministrativo contabili dopo il meno uno subito nelle scorse settimane dal Tribunale federale per la mancata attestazione del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. I tre punti col Livorno hanno riaperto uno spiraglio salvezza, ma la squadra va adeguatamente rinforzata. Invece la proprietà nelle ultime ore per bocca del vicepresidente Guglielmo Maio ha fatto sapere che il mercato sarà fatto in base al bilancio, tenendo d'occhio i conti e nessun giocatore è considerato incedibile. Tutto questo va a corroborare quelle voci che già si erano fatte insistenti nei giorni scorsi. La Virtus perderà il suo giocatore di maggiore rendimento, l'uomo su cui D'Aversa si è appoggiato per non compromettere le speranze salvezza già nel girone in andata, Antonio Piccolo, decisivo con i suoi otto gol. L'attaccante è in scadenza di contratto e piuttosto che perderlo senza poter batter ciglio, la società potrebbe farlo partire subito monetizzando. Sa di beffa la situazione di Guido Marilungo, il centravanti di proprietà dell'Atalanta, dopo un lento e difficile recupero dal grave infortunio, finalmente si era sbloccato domenica scorsa con la doppietta al Livorno. Sul più bello però, Marilungo andrà via e col placet dell'Atalanta finirà al Perugia, dove ritroverà Bisoli che lo ha allenato a Cesena. Anche il DS perugino Goretti è uscito allo scoperto sulla trattativa. Un colpo al cuore per gli sportivi frentani è sapere che anche il capitano con la C maius, Carlo Mamarella, potrebbe fare le valigie nel corso della sua ottava stagione in Frentania. Al difensore dal sinistro Fatato è fortemente interessato Lascoli e i contatti sono ben avviati. Anche l'Avellino guarda Lanciano per rinforzarsi, situazione avanzata per il difensore Raffaele Pucino che andrebbe via dopo metà stagione. Destinazione Irpina anche per Luca Crecco che al contrario di Pucino ha giocato molto poco. I due peraltro non sono di proprietà della Virtus ma di Chievo e Lazio rispettivamente. Voci di mercato anche intorno a Fabrizio Paghera che come piccolo era in procento di andare via già in estate. Il centrocampista di proprietà sarebbe un'altra opportunità di fare cassa per il soldatizio frentano ma costituirebbe una perdita molto grave sotto il profilo tecnico. E' una notizia ufficiale che arriva dalla Lega Pro perché si dividono le strade di Simone Calvano e del Teramo. Il giocatore che era arrivato in prestito dall'Ellas Verona torna appunto all'Ellas Verona. Ieri è stato chiuso l'accordo per andare via da Teramo e si conclude quindi l'esperienza del centrocampista in bianco-rosso. E' davvero tutto per questa prima edizione del TG6. La prossima alle ore 19 io vi lascio al TG6 L'Aquila. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!